buonasera a tutti oggi parliamo di elezioni regionali ne parliamo con il professore roberto lagalla che qui studio con me che io ringrazio grazie a voi e allora queste elezioni regionali sono particolarmente importanti per la sicilia professore lagalla decide di candidarsi poi parleremo della possibilità che lui insomma poteva essere il candidato alla presidenza della regione però intanto è presente con idea sicile che il movimento che lui ha fondato assieme chiaramente ai popolari e agli autonomisti perché questa candidatura la candidatura è in qualche modo la conseguenza di un lavoro che abbiamo svolto sul territorio per oltre un anno incontrando nei luoghi della sicilia i siciliani registrandone i bisogni e le necessità e costruendo su questo un programma di azioni e di possibili interventi a sostegno di una ripresa economica e sociale di questa terra e abbiamo fatto la scelta di entrare nel perimetro della coalizione guidata da nello musumeci e in queste elezioni idea sicilia che mantiene il suo logo nel il suo simbolo nel nella scheda elettorale lo fa insieme ai popolari e agli autonomisti nella convinzione che sia opportuno creare all'interno di questa stessa coalizione di centrodestra un asse centrista che si rifaccia alla dottrina sociale della chiesa e alla liberal democrazia e che sottolini la perdurante importanza della condizione statutaria ed autonomistica. La scelta di Roberto D'Acalla è da condividere il fatto che lui si candidi che ci metta la faccia perché poteva benissimo scegliere di essere inserito nel listino e quindi sarebbe stato molto più semplice. Dico proprio questa scelta perché? Per riaffermare proprio al di là delle cose che sono state... Io sul piano personale diciamo che nelle cose che ho cercato di fare della vita prima di ogni cosa ho messo la faccia ed ho buttato tutta la posta sul piatto. Lo faccio anche questa volta e lo faccio convintamente unitamente ad altri rappresentanti di idea sicilia che trovano posto nelle liste di idea sicilia popolari e autonomisti e lo faccio avendo non direi neanche il rifiutato ma non avendo mai messo in discussione neanche un momento la possibilità che io potessi entrare nel listino perché il confronto con gli elettori, la ricerca del consenso vero devono essere dirette e costituiscono sicuramente il sale e il significato stesso di una competizione elettorale. del campo da accordi segreti che possano essere stati stipulati con le altre forze politiche. Guardi per quanto mi riguarda e per quanto riguarda Idea Sicilia che non è un movimento politico ma è uno spazio di riflessione e di azione che abbiamo costruito tra la gente e con la gente e non esiste nessun accordo politico. Io sto presentando la mia candidatura e la candidatura degli amici di Idea Sicilia in tutte e nove le province della Sicilia e lo sto facendo semplicemente con la forza e la volontà di una proposta e di un'ipotesi di cambiamento vero da iniziare prima di tutto all'interno delle istituzioni regionali. Generalmente nelle mie domande non sono mai cattivello però devo utilizzare necessariamente il titolo di una commedia famosa di Shakespeare, molto rumore per nulla, riferendomi alla candidatura. Però ripeto non sono cattivello, non ho capito perché non viene scelto Roberto Lagalla. Ma guardi, Roberto Lagalla ha tenuto prima di ogni cosa a svolgere... Senza nulla togliere i meriti né di Mussoumeici né di altri... No, 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 a svolgere un lavoro autonomo sul territorio convinto come sono che si sia interrotto un filo di continuità e anche di apprezzamento tra gli elettori e la politica. E allora abbiamo ricominciato da dove la politica deve ricominciare. Nelle città, nei paesi, nelle contrade, laddove la gente vive la sua vita e la sente lontana dalla politica. Questo probabilmente dalla politica tradizionale non è sempre apprezzato perché non è il metodo ordinario. È chiaro che la mia, che è opposto come ipotesi di candidatura, non ha trovato quel consenso delle forze politiche tradizionali, anche alla luce delle inferenze che su questa campagna regionale sta avendo la prospezione e la proiezione delle prossime elezioni politiche nazionali. Chi voleva la galla e chi non l'ha voluto? Ma guardi, io non so chi voleva la galla e chi non l'ha voluto, non amo fare... Perché la politica si contraddice, a volte si cerca il volto nuovo, poi allo stesso tempo si contraddice e si ricorda sempre... Non amo fare il gioco della torre e certamente rilevo da parte della coalizione di centrosinistra una evidente improvvisazione e anche poi una certa tendenza al frazionamento delle varie componenti. Per quanto riguarda la coalizione di centrodestra ritengo che le logiche in proiezione nazionale di dover mantenere per forza una intesa forte e generale tra le varie componenti dell'anima di centrodestra nazionale abbia fatto prevalere la legittima e secondo me significativa la candidatura di reno musulmese. Parliamo dello stile. La galla si ritira con stile dalla corsa alla carica di Presidente e tra l'altro appunto presenta le liste. Altri fanno diversamente. Quanto è importante in questo momento dare dei segnali di comportamento appunto corretti, precisi, trasparenti, eccetera? Io credo che la gente apprezzi la coerenza e in questo i segnali hanno una loro importanza e una loro valenza. È chiaro che poi i comportamenti e i segnali vengono messi a disposizione della libera valutazione degli elettori che potranno fare e orientare le proprie scelte. Io ho ritenuto che partendo diciamo dalla richiesta nuova di una politica che ritorni a generarsi dal basso non potessi pretendere né posizioni di privilegio e listino né fare accordi prima di avere verificata la vera portata del consenso elettorale. Cosa c'è di vero della candidatura come candidato del centrosinistra? Era stata effettivamente offerta la possibilità di candidare? No, nessuno mi ha fatto... Oppure sono notizie così? Nessuno che provenga dalla politica tradizionale o dai luoghi della decisione troppo spesso, ripeto, lontani dalla gente mi ha proposto la candidatura alla Presidenza. Questa ipotesi era stata sostenuta certamente da alcuni ambienti centristi ma non ha trovato quelle convergenze che sarebbero state necessarie. Idea Sicilia non era e non è stato nella sua genesi né un movimento di centrodestra né un movimento di centrosinistra ma è stato uno spazio civico che vuole rivendicare fortemente anche con i candidati che provengono dalla società civile la sua matrice civica e quindi come tale abbiamo avuto contatti sia con le componenti di centrodestra sia con le componenti di centrosinistra. In questo momento si sta riponendo il tema dell'autonomia alla luce di quello che sta succedendo in Spagna già si ricomincia a parlare di possibili problemi che potrebbero sorgere sia in Sardegna sia in Sicilia. Ecco, cosa dobbiamo pensare in questo particolare momento storico? Guardi, anche l'andamento della vicenda catalana dove la dichiarazione di indipendenza è stata formalmente resa sulla base a mio avviso di una necessità di equilibri politici in quell'area diciamo è stata poi in qualche modo stoppata dagli stessi proponenti il che evidentemente significa che oggi esiste e questo lo testimonia anche quanto sta avvenendo in Lombardia e in Veneto. Esiste una tendenza e un orientamento sempre maggiore delle realtà locali a diventare protagoniste di un processo di cambiamento ma anche di autogoverno ma al tempo stesso non si può prescindere in termini di scala dai riferimenti nazionali e vorrei dire anche internazionali ed europei. Insomma in buona sostanza si sta affermando in varie parti d'Europa e certamente anche in Italia quello che è l'essenza e il contenuto del termine global cioè in un mondo globalizzato per accettare e sostenere la sfida della competizione internazionale è necessario recuperare le identità locali e promuovere un'economia caratterizzante di queste realtà locali che possano guidare lo sviluppo e mantenere le varie realtà territoriali all'interno di un equilibrio complessivo di economia e di società avanzate. Un'esplosione molto difficile da fare comunque noi l'abbiamo accennato perché dovremmo considerare altri contesti come tra l'altro... Poi dobbiamo fare una valutazione che mi consentirà di un minuto sullo statuto siciliano io sono assolutamente convinto che lo statuto resti tutt'oggi pur con le necessarie variazioni ed evoluzioni che dovranno essere fatte un cardine fondamentale non potrei pensarla diversamente visto che nella lista sono presenti gli autonomisti ma è chiaro che noi dobbiamo fare un'applicazione virtuosa di questo statuto perché a tutt'oggi abbiamo stati deboli con il potere centrale nella più parte dei casi e per quanto riguardava le autonomie locali e le possibilità di autogoverno le abbiamo orientate troppo spesso all'interesse della classe dirigente e non all'interesse popolare. Roberto Vagallo è già stato assessore alla sanità della regione siciliana, un'esperienza che lui giudica positiva, molti altri la giudicano positiva, forse per questo vorrebbe ritornare a fare l'assessore alla sanità. Io personalmente la penso diversamente nel senso di non ritornare mai sul luogo del delitto tra virgolette, però lui penso che la pensi in maniera diversa. Qual è il motivo, il fatto che proviene da un ambiente appunto medico? La mia vita chiaramente professionale e anche accademica è in gran parte diciamo vissuta all'interno del mondo della sanità e ho avuto quella esperienza che portò al piano di rientro che poi è stato completato negli anni successivi ma ha costituito un punto di riferimento importante vorrei dire decisivo per riportare l'equilibrio finanziario della sanità dentro l'alveo dell'equilibrio complessivo dei conti. assisto oggi e devo dire soprattutto nell'ultimo periodo ad un progressivo arretramento della qualità della sanità ma anche a uno scadimento dei modelli organizzativi e credo che valga la pena spendersi in un settore che è portante e in qualche modo decisivo per il popolo. Non si può portare avanti una gara per l'acquisto dei pannoloni. C'è una cosa incredibile, ormai io non leggo più la notizia perché sono talmente sconcertato. Tutto il mondo della sanità sia sul piano propriamente assistenziale sia sul piano della gestione amministrativa oggi vive una stagione di straordinaria difficoltà che occorre riportare a una centrale degli acquisti che però possa essere effettivamente efficace e funzionale. Qui è stata costituita una centrale unica degli acquisti che non è supportata nonostante gli sforzi nel modo in cui dovrebbe essere supportata per poter effettivamente rispondere alle esigenze di dotazione delle strutture sanitarie. Ma ci ho detto, è tutta l'organizzazione sanitaria che va ripensata in questo momento in Sicilia e io girando per la Sicilia ho trovato insoddisfazione sia negli utenti sia negli operatori. Ci ho detto e assodato che chiaramente il tema della sanità è un tema a me molto vicino. è chiaro che in questo momento è noto che io sono stato designato se la coalizione dovesse risultare vincente all'interno dell'Aggiunta ma vorrei spendermi all'interno dell'Aggiunta in coerenza con le competenze e il tipo di personale formazione e esperienza che ho vissuto. Alcuni pensano all'istruzione, all'assessualità all'istruzione. Non sarebbe opportuno che un ex rettore si dedicasse a questo settore per consentire quella crescita culturale dei giovani che è molto importante anche in relazione alle altre realtà sia nazionali che internazionali. Io non potrei che pensarla allo stesso modo rispetto alla centralità e all'importanza del tema dell'istruzione della formazione giovanile, del raccordo scuola-università-lavoro, della valenza della ricerca all'interno di un territorio. Perché diciamo che la politica è stata abbastanza disattenta per quanto riguarda l'istruzione. Diciamo che noi in termini di istruzione e formazione professionale siamo assolutamente lontani dagli standard e dai paradigmi. E vi dico come non si possa riorganizzare la formazione professionale che io non vedo in questi temi perché dovrebbe essere legato all'università o alle scuole. Ma sono assolutamente d'accordo. Poi da ridere anche perché la formazione professionale... La garanzia che offre l'istituto scolastico statale non la può offrire nessun ente regionale riconosciuto. Ma infatti la formazione... Bisogna essere però forti nel dichiarare queste cose. La formazione è certamente una cerniera fondamentale tra la scuola e il lavoro e va fortemente ripensata. Il comparto però è stato annientato, ancorché meritevole, di profonde ristrutturazioni e di grandi ripensamenti, ma non si risolvono i problemi annientando il sistema. Ma è completamente ripensato. Ma voglio dire anche un'altra cosa. Sulla istruzione noi abbiamo un buco nero enorme. Siamo l'unica regione italiana che non abbia una legge sul diritto allo studio. Siamo una delle poche regioni italiane dove non abbiamo assolutamente valorizzato il rapporto del governo regionale con la scuola e col mondo delle università, soprattutto in quest'ultimo periodo. È un comparto di straordinaria rilevanza. Io ho sufficiente senso di responsabilità per non puntare mai i piedi nella mia vita. L'ho dimostrato anche in occasione di queste recenti vicende politiche. Credo di averlo dimostrato almeno. E quindi non sono qui a puntare i piedi sul nulla, ma sono qui a volere dare un contributo a condizione che questo possa in qualche modo mettere a valore l'esperienza personale. Una piccola nota politica, se politica si può chiamare. Generalmente nella spartizione dei vari assessorati, l'assessorato alla pubblica istruzione, sia nei comuni che alla regione, viene considerato per esempio un assessorato di terza fascia. Ed è assurdo, proprio è una cretinata totale. Bisognerebbe considerarlo un assessorato di prima fascia. Quindi con strutture adeguate, mezzi e risorse economiche. Si risolverebbe il problema. Non mi appassiono minimamente alle fasce, alle categorie. O al manuale Cencelli dell'attribuzione delle competenze. A me nella vita interessa lavorare e cercare di poter fare qualche cosa di utile. Parliamo degli altri punti per la mia terra. Il tempo vola, ci appassioniamo e il tempo vola. Gli altri punti, infrastrutture. Noi abbiamo sei punti alla base del programma, che sono sanità, pacchetto giovani, con una forte attenzione all'autoimprenditorialità giovanile, allo start-up e all'innovazione. L'infrastruttura. La infrastrutturazione. La infrastrutturazione che parta dalla riorganizzazione e dalla ristrutturazione della viabilità ordinaria, anche quella provinciale, che è stata devastata dalla ridicola vicenda dell'abolizione prima e del ripristino poi, passando per il lungo commissariamento delle province. La solidarietà attraverso un pacchetto forte di aiuto e di solidarietà al disagio sociale e alle disabilità. Della sanità abbiamo parlato e soprattutto la valorizzazione in chiave economica delle risorse proprie della regione. Parlo di un'agricoltura di qualità, della produzione di energie innovative, del turismo, dei beni culturali, della pesca. Insomma, tutto ciò che caratterizza in qualche modo il nostro mondo e la potenzialità di crescita della Sicilia. Chi è Roberto Lagalla? Roberto Lagalla è un uomo... Perché abbiamo parlato di tante cose, la parliamo della persona. È un uomo che ha sempre creduto nel lavoro, nella possibilità che non guardando gli altri ma pretendendo da se stesso ci si possa qualificare e proporre per lavorare collegialmente dell'interesse della collettività e della comunità. Allora, Roberto Lagalla è un politico nella misura in cui la politica viene etimologicamente tradotta e quindi non tanto come prassi della politica che ai cittadini non piace, quanto come interesse alla comunità e alle persone. Insomma, Roberto Lagalla è semplicemente un uomo. Una piccola polemica. Roberto Lagalla si sarebbe candidato dal rettore al presidente della regione? Ma guardi, io ho troppo rispetto del ruolo di rettore per pensare che esso possa... Non vi voglio fare a litigare. No, no, ma io non litigo con nessuno. Sono domande obbligate molte volte. Non litigo con nessuno e noto a tutti che io ho supportato convintamente l'elezione al rettore dell'attuale candidato della coalizione di centrosinistra. Ma al di là del rispetto dovuto alla singola persona, ho troppo rispetto dell'istituzione universitaria per pensare che si possa essere contemporaneamente arbitro e giocatore. Un rettore è garante dello statuto e lo statuto alla sua prima riga dice che la università è apolitica ed apartitica. Quindi quando si diventa politici si smette la casacca dell'arbitro e si assume per sempre quella del giocatore. Crocetta. Un giudizio sul governo Crocetta. Ma guardi, io prima voglio esprimere un giudizio su Crocetta nella fase ultima di questi giorni che porta all'elezione. Crocetta un gigante di fronte ad Orlando e di fronte al candidato di centrosinistra. Cioè paradossalmente negli ultimi giorni si rivaluta. Perché è stato generoso con la coalizione e ha consentito di completare le liste anche in maniera abbastanza difficoltosa e lo ha fatto proponendosi in maniera autorevole su questo. E quindi il mio apprezzamento al presidente Crocetta per la capacità che ha avuto di superare anche con generosità, ripeto, le resistenze e le difficoltà che gli hanno frapposto all'interno della sua stessa coalizione. Sul piano del governo non discuto l'onestà personale del presidente Crocetta. Certamente rilevo che è mancata in questo governo la visione, la pianificazione, la programmazione e la capacità di gestire la macchina amministrativa. È stato un governo che i siciliani, al di là di ogni singolo fatto, che può anche avere alcune connotazioni positive, i siciliani hanno valutato e hanno percepito come disastroso e da superare. E credo che con questa premessa si vada alle nuove elezioni regionali. La domanda era per ripartire. Che cosa bisogna fare per non ricadere negli errori fatti dal governo presente? Soprattutto il riammodernamento della macchina amministrativa che è uno dei punti che porta avanti l'idea a Sicilia. Io penso, l'idea a Sicilia porta avanti soprattutto un'affermazione che per me è fondamentale. Occorre cambiare il metodo e la cultura di governo. Non possiamo più accettare una politica egoista e piegata sugli interessi particolari. Occorre ripartire dalla programmazione, dalla pianificazione, dall'interesse reale nei confronti del bene collettivo. E' questa che appare un fatto forse non concreto ma importantissimo rispetto alla premessa. E' l'unica base su cui ci si può impegnare a ricostruire. Non sono politici bravi per fare questo perché altrimenti i burocrati non glielo fanno fare. Beh, guardi, la burocrazia è stata troppo spesso impedimento ed è proprio la riorganizzazione della macchina burocratica che deve portare ad avvicinare l'amministrazione che deve essere ordinatoria, non esecutrice di tutti gli adempimenti ed invadente. La regione deve riacquistare un ruolo di regolazione generale, di programmazione e al tempo stesso la forza della politica deve essere tale da poter imporre nella maniera e nelle forme legittime la traduzione in atti concreti dell'idea ma soprattutto del progetto politico. Che cosa deve essere la Sicilia? Terra di accoglienza, terra di cultura oppure barriera contro l'avanzamento degli altri popoli? La migrazione dei popoli è un fatto, è un fenomeno imposto dalla storia a meno che l'economia in quei luoghi non riparta nel modo in cui dovrà ripartire. Io penso che quel continente africano sia invece un punto sul quale occorre investire in termini di riqualificazione ma anche di rapporti internazionali nell'area mediterranea che la Sicilia deve sapere curare in maniera molto più forte e incisiva di quanto non abbia saputo fare negli ultimi anni. Assolutamente deve aumentare un ruolo internazionale, deve essere un attrattore di competenze e di conoscenze ma la Sicilia deve tornare ad essere soprattutto o deve cominciare ad essere finalmente e soprattutto una regione normale e non una regione patologica. Una domanda che faccio a tutti, che cosa non abbiamo detto? Ma non abbiamo detto tante cose, forse non abbiamo detto che la gente oggi è stanca di una politica alla quale non crede più. Quindi occorre riproporre ai cittadini, riproporre la proposta e dire loro che la protesta troppo spesso poi si traduce in una incapacità di governo. Ecco, forse non abbiamo detto che lo studio, la competenza, la conoscenza, la serietà, l'equilibrio e la coerenza restano i vincoli immateriali più importanti per essere identitari. Abbiamo detto il salto di qualità, che era un salto culturale che è importante per la Sicilia. Allora, ci fermiamo qua. Noi auguriamo tanta fortuna a Roberto Lagalla, chiaramente a tutti i siciliani e ai palermitani. Quindi buonasera a tutti e grazie. Grazie a tutti voi.